E quando lei ti dice, amore, ti ricordi quello che stava nella casa del grande fratello, che era sposato con quella, che nella casa ha avuto una relazione con quell'altra, ma com'è che si chiama, amore, non mi viene il nome. E tu lì che la guardi impaurito e non sai cosa risponderle. Perché se le dici, non me ne frega un cazzo, dormi sul divano. E quindi sei lì che fingi di capire di chi si tratti. Ah, sì, amore, ho capito chi è. Quello che stava con quella, che poi ha avuto la relazione con quell'altra, che quella l'è venuta a sapere, è entrata pure lì nella casa. Ma c'è schifo, c'è, sì, non ho capito chi è, amore. Qua ce l'ho, però non mi viene il nome. E lei ti guarda e dice, sì, pure io ce l'ho qua il nome. Però dimmi come cazzo si chiama, amore, ma non ti ricordi niente, guaglio. Ma che cosa? E tu che continui a guardarla, ancora più impaurito. E in cuor tuo vorresti dirle, amore, mi puoi fare quello, per favore? E lei cosa? U cazzo di un piacere di non farmi più chi si domanda. Che a me, di un grande fratello, di quello che è entrato nella casa ed era sposata con quella, ha avuto la relazione con quell'altra e poi anche quell'altra è entrata nella casa e tutti insieme hanno fatto quella match, ma non freke.